Buongiorno, benvenuti, buona domenica a tutti quanti voi. Ancora un po' di giorni per decidere chi saranno i presidenti di Camera e Senato. Una cosa che è del tutto chiara è che la presidenza della Camera e del Senato non saranno ininfluenti per il governo. I giochi si faranno proprio nella scelta di Camera e Senato. Vi faccio un caso per tutti. Oggi i giornali non parlano di una cosa, anzi il Corriere della Sera lo fa capire chiaramente, ma lo sapete tutti quanti voi, al Senato il centrodestra ha 137 seggi, mentre il Movimento 5 Stelle ne ha 112. Seguitemi bene, 137 il Movimento 5 Stelle, il centrodestra e 112 il Movimento 5 Stelle. Il sistema per eleggere il Presidente del Senato è molto semplice, ci vuole la maggioranza assoluta, quindi nell'uno e nell'altro possono fare. Al quarto scrutinio i primi due votati, quindi nell'ipotesi uno del Movimento 5 Stelle e nell'ipotesi uno del centrodestra, i due più votati pur non essendo dotati di maggioranza assoluta vanno al ballottaggio l'uno contro l'altro. Chi prende più voti viene eletto. Allora in questo sistema il centrodestra potrebbe eleggere il Presidente del Senato senza chiedere il permesso al Movimento 5 Stelle, lo potrebbe fare da solo, quindi se Lega, Centrodestra, Salvini, Berlusconi e compagnia cantante fossero così uniti, potrebbero farsi il Presidente del Senato con un colpo di scena. Non pensiate che questa sia una cosa che non è mai avvenuta, vi ricordo che Scogna Miglio diventò Presidente del Senato per un voto. Detto questo invece il Movimento 5 Stelle, oggi il titolo del Corriere della Sera, pone veti sui candidabili alle presidenze di Camera e Senato. Il veto è per i condannati o sotto processo. Chi sono i condannati o sotto processo oggi papabili per fare i Presidenti di Camera o Senato? Due. Calderoli, che non piace a Salvini perché è troppo autonomo, perché per gli insulti alla Chienge sarebbe sotto processo. E l'altro è Romani, che sarebbe stato condannato in primo grado perché quando Assessore Ammonza aveva prestato il telefonino a sua figlia. Ditemi un po' voi. Vabbè. Comunque, questa posizione del Movimento 5 Stelle fa sì che dare le carte sia a lei, Movimento 5 Stelle, e non certo il centrodestra. Per quale motivo, punto di domanda? Perché il centrodestra è diviso, se no ovviamente non si farebbe mettere sotto dal Movimento 5 Stelle. Nel frattempo cosa pensa l'ortodossia del centrodestra? Beh, insomma, devo dire la verità che bisogna leggere quello che scrive il giornale oggi, che dice la bugia della Lega. Sostanzialmente il Movimento di Salvini starebbe tramando per fare un governo con i 5 Stelle, dicendo che soltanto ai fini elettorali, ma poi dopo insomma i due si alleerebbero per molto di più. Bisignani sul tempo, poi fra poco ve lo pubblico sul sito Nicola Porro, quindi è molto interessante, dice attenzione che se continuate a fare sti casini ci troviamo Cantone, Presidente del Consiglio, che potrebbe mettere d'accordo una parte dei 5 Stelle e certamente una parte del PD. Comunque, insomma, la divisione al centrodestra sono quelle che contano. Non che la centrosinistra stia meglio. Oggi Veltroni fa un'intervista sul Corriere della Sera in cui dice che la sinistra deve ritrovare se stessa. Qualcuno di voi alzi la mano e mi spieghi che cosa vuol dire ritrovare se stessi, perché se fosse così semplice è come quando stai male e ti dicono cerca di stare bene. Ma che cavolo di affermazione è? Cerca di stare bene. Se sto male non posso cercare di stare bene, mi piacerebbe cercare di stare bene. Ho 40 di febbre, cerca di starmi bene. Ma come cerca di starmi bene? Cosa vuol dire? Ritrova se stessa, ritrovi se stessa Veltroni. Alla fine di tutta questa intervista di 200 righe di Aldo Cazzullo, l'intervistatore del Corriere della Sera, si capisce che a certe condizioni quello che dice Veltroni è fate pure un accordo con il Movimento 5 Stelle. È chiaro? Questo è il sema fondamentale della vicenda. Nel frattempo cosa fanno i Renziani? Oggi c'è un retroscena su uno dei grandi giornali in cui ci racconta, mi sembra, Repubblica, che sia Lotti o il Corriere della Sera sia Lotti, l'uomo che oggi fa il Ministro della Sport, che tiene le fila dei Renziani. 70 su 116 deputati sarebbero Renziani, 32 su 38, tra 32 e 38 senatori su 57 sarebbero di stretta osservanza Renziana. Quindi non c'è Veltroni, Orlando, Franceschini che conta, se Lotti riesce a fare il suo mestiere per far arrivare al, diciamo, per far evitare che il PD vada a fare strani giochi. Questo è quello che i retroscenisti oggi dicono. Per quanto riguarda la politica direi che è abbastanza tutto, quindi oggi il pendolo è per un Movimento 5 Stelle che dà le carte, è per un centrodestra diviso e per un centrosinistra che non vede l'ora di fare l'accordo di governo, ma è incerto perché all'interno del centrosinistra i gruppi parlamentari renziani non sono per la quale. Bufera su Cambridge Analytics. Oggi ne parla Repubblica, il giornale, tutti ne parlano. Sostanzialmente Cambridge Analytics è quella azienda che ha fatto vincere Trump in America. Nulla di scandaloso perché semplicemente hanno scoperto che si è passati dal mondo dei sondaggi al mondo degli algoritmi, dal mondo delle informazioni, diciamo, campionarie al mondo delle informazioni precise e puntuali. Quindi Cambridge Analytics è quella che ha spiegato a Trump dove doveva andare, in quali Stati doveva andare a investire per poter vincere la Presidenza della Repubblica. Pare che abbia rubato 50 milioni di entità su Facebook e che le abbia utilizzate per questo suo scopo, che non è ovviamente truffaldino, ma rubare le entità su Facebook lo è. Oggi c'è grande polemica su questo. Cambridge Analytics è l'unica cosa che dovrebbe interessarci in questo momento perché ci spiega il futuro dove va, non più i sondaggi ma gli algoritmi appunto. L'Appendino diventa un'impionica, io la trovo fantastica, scrive una lettera a Malagò, che il Presidente del Coni per dire di fare le Olimpiadi a Torino e già questo vi dà l'idea di quello che valga tutto, contro le Olimpiadi, per le Olimpiadi, con grillo, senza grillo, eccetera, si sbaglia perché invece di chiamarlo Malagò, nella lettera scrive Magalo, non so, lo chiama in un'altra maniera, già questo ti dà il senso e l'idea della capacità, diciamo, di conoscere le burocrazie. Però insomma, almeno sulla lettera c'è qualcuno che te la correga, perché il tuo capo, probabilmente il gabinetto era quello che faceva i truschini ed è stato cacciato. Detto questo, l'idea che il Movimento 5 Stelle oggi sia per le Olimpiadi vuol dire che vale tutto, domani me lo troverò per la flat tax. La cosa più scandalosa di oggi è la Balzerani, cioè una terrorista, una brigatista, un'assassina di merda, perché questa è la Balzerani, non ho altro da dire, che è stata catturata nel 1985 e inspiegabilmente, anzi molto spiegabilmente, per le leggi sulla dissociazione, lei non si è dissociata, per i benefici di legge, per i benefici di carcerari, insomma è uscita in libertà provvisuale nel 2006, dopo solo vent'anni. Questa Balzerani è ospite di un centro sociale, che io chiuderei insieme alla Balzerani in carcere, la Balzerani in carcere, lo chiuderei, e dice che le vittime devono smettere di fare questo mestiere, quello delle vittime, dice tante altre cose, cioè sputi in faccia persone che hanno visto i loro parenti uccisi da quella stronza della Balzerani che si permette di fare ancora, cioè di girare, dovrebbe essere, se non in galera, dovrebbe essere chiuse in una casa a chiave, questo è quello che io penso della Balzerani, c'è una figura, la vittima delle BR che è diventata un mestiere, non hanno soltanto loro il monopolio della parola, sì, loro hanno il monopolio della parola, perché tu hai ammazzato delle persone, insieme a te avete fatto soffrire decine, centinaia di famiglie, perciò lei ha il monopolio della parola, le vittime, non i carnefici, questo a casa mia. Luca Telese la tratta sul libro da per suo, dice assassina e narcisista, bellissimo anche il pezzo di Brambilla oggi, che è il direttore della Gazzetta di Parma, che in realtà è ospitato come fondo dal giornale, che dice che in realtà però contesta anche questi bravi ragazzi che l'hanno ospitata, perché c'è anche quest'altro elemento, cioè questi centri sociali che ospitano una brigatista, che centri sociali sono? Sono quelli da cui esce la professoressa di scuola che dice che si devono ammazzare tutti i poliziotti? Insomma, ragioniamo anche, più che penosa, felice, la Balzerani è disgustosa, sulla riforma finanziaria si intrattiene e sui benefici nuovi di legge che darà la riforma finanziaria si intrattiene travaglio, non è male, il suo pezzo, ultime due cose fondamentali riguardano la finanza e l'altra la Russia, la stampa mi sembra che sia l'unica che se ne occupa dignitosamente sul fatto che si sta votando a Mosca e in Russia e Molinari, direttore della stampa, ci ricorda come Putin è lì dal 2000, insomma non stiamo parlando, è come se fossero le elezioni americane, però noi le trattiamo come se fossero invece le elezioni di Civitavecchia, con tutto rispetto per Civitavecchia e la Rai la intervista pure, dice qualcuno sulla Balzerani e ha perfettamente ragione. Secondo tema oggi è l'apertura del Sole 24 Ore, le società quotate hanno distribuito nel 2017, distribuiranno ora durante l'assemblea la bellezza di 17 miliardi di dividendi. 17 miliardi di dividendi vuol dire che è una manovra finanziaria per chi è creduto nelle grandi società italiane quotate in borsa e dunque è l'approfondimento di oggi del Sole e di un pezzo di Repubblica. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre con la zuppa domani e poi domani e lunedì avremo la radio e tante altre cose e sul sito nicolaporro.it vi voglio pubblicare più tardi un paio di cosette che sono certamente di interesse, la prima riguarda il pezzo di Bisignani sul rischio cantone, chiamiamolo così, e poi sul reddito di cittadinanza, c'ho qualche ideuzza. Anche sulla Balzerani, forse più tardi vi mando qualche messaggino. Direi che per oggi è tutto, condividete se vi piace la zuppa di porro perché con il nuovo algoritmo di Facebook, a meno che tu non sia Cambridge Analytics, è molto difficile riuscire a penetrare utenti che già non mi seguono, quindi fate una specie di opera di apostolato, la mettiamo così non prendendoci troppo sul serio. Ciao e buona domenica!